Salve ragazzi, sono Zett e vi comunico che molte serie andranno in pausa per quest'estate perché io non ci sono e non posso registrarle, non le abbiamo registrate in anticipo Non lascerò il canale inattivo, probabilmente preparerò qualche video per almeno uno al mese Farò uscire Piccoli aggiornamenti sulla serie di Regno of Winter Abbiamo fatto il level up direttamente al livello 3 Perché continuando a guardare l'avventura non conviene fare fino al livello 2 I successivi capitoli sono abbastanza impegnativi per dei personaggi livello 2 Per cui ho deciso di far salire direttamente al 3 e poi proseguire con la crescita normale del level up Faccio live su Twitch, probabilmente i video che porterò sul canale li registrerò in live Se qualcuno vuole farmi compagnia mentre li registro il link è in descrizione Metterò anche in sovrimpressione Seguitemi su Instagram perché pubblico disegni e cose che non carico su YouTube La programmazione è classica quindi ogni domenico uscirà un video di Regno of Winter, si spera Tornerà da settembre Ci rivedremo sostanzialmente a settembre A presto Grazie a tutti